Buongiorno Daedo, devo dare a recuperare un sacco di cose, un sacco di notizie, quindi non c'è tempo neanche per fare un'introduzione, andiamo subito con la puntata di oggi. Allora, partiamo da Microsoft, perché in questi giorni c'è l'evento Ignite, e quindi Microsoft presenta un sacco di cose. La prima che vi lancio, piccolina, ma insomma potrebbe essere interessante, è Loop, che è un software che praticamente è un competitor di Notion. Direi competitor, ma potrei anche dire clone, perché insomma l'interfaccia è molto simile, le funzionalità sono sempre quelle. Per chi non sapesse cos'è Notion, è una sorta di organize, è un software che vi aiuta a organizzare i vostri pensieri, le vostre scadenze, le vostre... Insomma, non so, qualunque cosa vi venga in mente e dovete prendere delle note, ecco potete usare Notion o in questo caso Loop, ma anche altri software, eh, per scrivere giù le note di qualcosa. Tra l'altro anche organizzate in template, tipo in tabelle o in Kanban board, insomma ci sono vari tipi di template, c'è anche un marketplace da cui prenderli. Insomma, questo per dire che quella è la funzione a cui assolve Notion, bene, Loop è fondamentalmente la stessa cosa però in casa Microsoft e naturalmente è integrata con i software Microsoft, quindi potete prendere dei pezzi di una pagina che avete creato in Loop e condividerla in Teams e in, che ne so, in Outlook. Benissimo, tra l'altro Loop era in preview da marzo, adesso è generally available, sia per i clienti enterprise che per i clienti, per tutti, insomma, per i consumer. E tra l'altro è integrato con la suite di AI di Microsoft, sapete naturalmente che quanto Microsoft investe, in quanto tenga all'AI, anche questo, l'Ignite di quest'anno ha confermato queste cose, tra l'altro sul palco hanno anche detto che, insomma, AI è talmente grande che è la cosa più grande che è successa al mondo informatico negli ultimi 40 anni, c'è più di internet, insomma. Siamo a questi livelli di hype, ecco, sull'AI. Ma non c'è solo Ignite, in questi giorni si svolge anche la .NET Conf e uno degli annunci importanti della .NET Conf è la nuova versione di .NET, cioè .NET 8. Ora, io non sono sviluppatore .NET e non sono addentro al mondo .NET, quindi non so bene valutare, lanciare e comunicare questi prodotti, però sappiate che .NET 8 arriva con un focus sulle performance, quindi performance molto migliorate, e sul cloud, quindi con una specie di nuova toolchain, di nuovi tool, che si chiamano .NET Aspire, ecco, e questo vi consente di creare l'applicazione .NET e deployarle più facilmente in cloud, insomma, su dei cluster, con già telemetria inclusa, una preconfigurazione, una serie di health check, insomma, tutto quello che potrebbe servirvi, diciamo, per iniziare un blueprint, per iniziare in cloud con un'applicazione .NET. Al momento Aspire è in preview, quindi c'è una prima preview, insomma, questo potrebbe essere il futuro, no, a cui sta aspirando .NET, quindi un qualcosa per creare applicazioni in cloud, anche in modo abbastanza facilitato. In questo aiutano anche degli avanzamenti sui container di .NET, quindi container rootless, con una compilazione AOT, insomma, e il nuovo SDK, naturalmente, e il supporto a tutti i tool di Azure, quindi anche l'autenticazione, insomma, integrare facilmente con, naturalmente, con i cloud di Azure. Poi, un altro focus di .NET è sull'intelligenza artificiale, e infatti il nuovo SDK vi dà modo ancora più facilmente di accedere alle capability dei Tensor Core, per esempio, o alle API di OpenAI, di Azure Cognitive Search e altri, insomma, se lavorate con AI, la nuova versione vi dà delle, insomma, facilitazioni ulteriori, ecco, in questo senso. E l'ultima cosa di cui vi voglio parlare è Blazor, che è una specie di framework per creare applicazioni web, ecco, basato su .NET, quindi avete back-end e front-end, e soprattutto potete creare delle UI, ecco, con Blazor. La nuova versione porta con sé anche un nuovo, un migliorato componente WebAssembly. Blazor punta molto su WebAssembly, voi potete far girare facilmente applicazioni Blazor su WebAssembly, e, insomma, questa nuova versione la migliora e l'incrementa, tra l'altro con un qualcosa che viene definito G-terpreter, che è la prima volta che la sento, ma è praticamente un mix tra l'interpreter e il just-in-time compiler, e quindi questo runtime viene chiamato G-terpreter, che, insomma, è anche un po' il concetto che ci stanno alla base di WebAssembly, cioè una parte viene compilata, perché il codice viene compilato in bytecode WASM, e però poi la VM, diciamo, chiamiamola così, in Virtual Machine di WebAssembly, interpreta questo codice e lo va a eseguire sul browser, oppure su un cloud, su un runtime for the browser in cloud, ecco. Questo era un po' Blazor, ci sono naturalmente altre cose, altri annunci, da MAUI a C-Sharp, ma vi lascio il piacere di andarvela a scoprire, se siete interessati al mondo.net, sul blog di Microsoft, sul devblog di Microsoft, trovate appunto questo annuncio. Ma non finisce qui, torniamo a Ignite e torniamo all'intelligenza artificiale, su cui Microsoft, dicevo, che punta molto, c'è un rebranding, ci sono dei rebranding in casa Microsoft, è ormai ufficiale, l'AI per Microsoft si chiama Copilot, e questo può portare anche un po' di confusione, come dice l'articolo di Ars Tecnica, perché Copilot è un nome che viene appioppato a un sacco di servizi di Microsoft, anche molto diversi. L'ultimo è toccato a Bing Chat, adesso Bing Chat, non si chiama più Bing Chat, ma si chiama Microsoft Copilot, tra l'altro c'è anche un sito ufficiale da cui potete accedervi, che è copilot.microsoft.com, adesso io ho visto che Bing Chat in realtà esiste ancora, quindi praticamente penso che il rebranding sia in transizione, ecco, però, questo è, Bing Chat si chiama Microsoft Copilot, e la confusione qua deriva dal fatto che ci sono tanti altri prodotti di Microsoft che si chiamano Copilot, ovviamente GitHub Copilot, ma anche Dynamics 365 Copilot, Copilot in Windows, Microsoft Security Copilot, e Microsoft 365 Copilot, quindi insomma un sacco di Copilot, tra l'altro anche il tool per creare Copilot personalizzati, un po' come ha GPT Plus con i GPTs, ecco, potete creare dei Copilot personalizzati, e questo tool si chiama Microsoft Copilot Studio, insomma, per aumentare ulteriormente la confusione. Comunque, la versione generally available di Microsoft Copilot sarà disponibile il primo dicembre. In conclusione, grande annuncio, sempre di Microsoft a Ignite, Microsoft entra ufficialmente nel mercato dei semiconduttori, perché produce e sarà disponibile nel 2024 un processore basato su ARM prodotto da Microsoft. Questo processore si chiama Cobalt, quindi questa CPU si chiama Cobalt, e tra l'altro viene seguita anche da un altro chip che è un acceleratore AI che si chiama Maya, e entrambi questi chip saranno disponibili nel 2024, basati sull'architettura ARM. Tra l'altro, se vi ricordate, abbiamo parlato delle nuove architetture ARM, ebbene Cobalt si basa proprio su una di queste nuove architetture, che è Neoverse N2, e tra l'altro basata sull'architettura Neoverse Genesis CSS, che se vi ricordate è quel design che vi permette di prendere un'intera CPU, e non solo un design che poi va customizzato, ma un'intera CPU che ARM ha disegnato per voi, già pronta, che va solo prodotta, ovviamente con un po' di personalizzazione, ma insomma va poi prodotta su licenza, ma che velocizza molto il processo di produzione di CPU basata su ARM. Bene, Microsoft ha fatto questa scelta, ha preso il design di ARM e ha creato Cobalt, quindi è la prima CPU Microsoft, comunque è un passo importante nella storia di Microsoft. Ora Microsoft è anche produttore di CPU, tra l'altro ha anche un nuovo rack, in cui racchiude questi CPU, questi acceleratori, perché quelli precedenti erano troppo piccoli, quindi hanno creato un nuovo rack, tra l'altro è molto bellino, sul sito, su The Stack, adesso qua sono, c'è una foto di questo rack, è un bello oggettino, bianco, potrebbe stare bene nella cameretta, ma è qua dietro, potrei metterlo come sfondo, molto bellino. Va bene, poi naturalmente non ci sono i benchmark ancora, ma ci sono dichiarazioni che segnano un incremento del 40% delle performance rispetto alle CPU attualmente installate nei data center di Microsoft e di OpenAI, che mi pare siano prodotte da Ampere, quindi insomma un 40% dichiarato di incremento di performance, ma aspettiamo e vediamo insomma davvero come sarà l'incremento quando arriveranno i primi benchmark. E questo è un po' diciamo il capitolo Microsoft, lo chiuderei, ma restiamo in ambito hardware, in ambito GPU, ecco. Sì, ci restiamo, ma cambiamo brand, cambiamo produttore, perché passiamo a Nvidia che ha lanciato, ha presentato le nuove H200, che sono delle GPU espressamente dedicate al calcolo per le AI, quindi non sono GPU dedicate alla grafica, ma proprio alle AI, che ha naturalmente una serie di particolarità, le GPU si prestano bene al calcolo AI, perché hanno bisogno di molte moltiplicazioni di matrici, e la GPU è proprio dedicata a questo tipo di calcolo, ebbene una cosa importante è la banda, la larghezza di banda della memoria, e qua sono andati molto a incrementarla, perché infatti si parla di un passaggio di dati pari a 4.8 TB al secondo, quindi immaginate a quanto è questa quantità, 4, quasi 5 TB di dati al secondo che passano tra i chip e la memoria di Nvidia, che è più del doppio rispetto alla versione precedente di H100. Comunque, questa H200 Tensor Core è basata sempre sull'architettura Grayshopper, però appunto offre degli incrementi prestazionali sulle CPU, e una enorme larghezza di banda della memoria. Naturalmente l'avanzamento nell'AI è dettato anche dalla disponibilità dei chip, sapete che c'è stato un problema di approvvigionamento di chip, e quindi un modo per risolvere questo problema è creare dei chip molto più veloci, che si possano produrre in minor quantità, ma che offrano più prestazioni, e insomma questa è la strada in cui si sta andando, in cui sta andando Nvidia. E questi nuovi chip, questi H200, andranno a costituire insomma la base di potenza per i nuovi datacenter di OpenAI, e verranno forniti anche come workload dai principali cloud vendor, quindi abbiamo AWS, Google Cloud, Azure e Oracle Cloud. Tra l'altro qua è particolare perché in questo momento Microsoft si trova sia a produrre i propri chip AI, e fornirli a OpenAI tra l'infrastruttura Azure, ma anche comprare chip da Nvidia e fornirli a se stessa come workload in Azure. Quindi insomma attualmente ha un po' un piede in due staffe, però vedremo un po' come si evolverà. Al momento ovviamente Microsoft non può competere con l'expertise e le prestazioni delle CPU di Nvidia, ma insomma questo è. In conclusione vi segnalo che, Ars Tecnica segnala che Nvidia sta un po' giocando al gatto col topo nei confronti del ban all'export di tecnologie e di chip dagli Stati Uniti alla Cina, perché devono produrre dei chip leggermente depotenziati, abbastanza depotenziati per rientrare nei limiti del ban, ma sono un po' in una zona grigia, alcuni chip non si è ancora ben capito se davvero rispettano questi limiti o no. Quindi stanno un po' arrischiando e stanno giocando un po' un gioco pericoloso. Ovviamente la Cina per Nvidia è molto importante, costituisce una grossa fetta del loro mercato e quindi devono correre questi rischi, però insomma il rischio c'è. E chiudo, rimanendo però sempre dandovi un'ulteriore notizia su questo, un articolo che ho trovato su The Register che parla proprio del chip ban, è uscito un report, un'analisi molto lunga, che parla proprio di questo ban e dice che nonostante i proclami dell'amministrazione Biden sull'efficacia di questo ban per ovviamente impedire alla Cina di sfruttare le ultime tecnologie nei chip e quindi andare a competere con gli Stati Uniti, ebbene non stato questo, la Cina sta producendo dei chip molto performanti. Apparentemente Huawei per esempio sta producendo attraverso SMIC, che è Semiconductor Manufacturing International Corp, ecco dei processori a 7 nanometri, che è un processo che è solo una generazione e mezza, ecco indietro rispetto ai chip prodotti negli Stati Uniti e in Europa. Quindi insomma, nonostante questi ban, la Cina sta andando avanti producendosi i chip internamente. Chiudo questa parentesi, ma insomma se vi interessa il tema, l'articolo è molto più lungo e lo trovate su The Register. Vado a aggiungere un pezzettino curioso alla news che lanciavo qualche puntata fa su U-Main, su AI-Pin, quindi su quella clip che vi appuntate al petto della maglietta e vi dà un assistente vocale basato su, o c'ha GPT fondamentalmente, e una telecamerina che vi riconosce gli oggetti e vi dice un po' cosa sono, vi dà dell'assistenza insomma. Questo oggettino è appunto AI-Pin, è prodotto da U-Main. Ecco, una notizia curiosa riguarda il fatto che nel video promozionale di AI-Pin, questo aggeggino ha dato almeno due risposte sbagliate, insomma gli utenti si sono accorti di due risposte sbagliate. La prima riguarda l'eclissi solare dell'anno prossimo, l'eclissi, cioè Imran Chaudhry, che è uno dei founder appunto di U-Main, ha chiesto a PIN, a AI-Pin, quando sarà la prossima eclissi solare e dove sarà il luogo migliore da dove vederla, e il PIN ha risposto che la prossima eclissi sarà l'8 aprile 2024, e questo è corretto, ma ha detto anche che il posto migliore da dove vederla sarà l'Australia, e questo è sbagliato, invece il posto giusto da dove vederlo sarà gli Stati Uniti, quindi risposta errata, è stata prontamente segnalata. L'altra risposta errata riguarda invece le proteine contenute in un cibo, in un alimento. Io avevo detto, pensavo che questo PIN, questo AI, riconoscesse l'etichetta di un alimento, la scheda nutrizionale, invece apparentemente qualunque cosa gli mettete davanti, se è un alimento, un frutto, insomma qualcosa, lui cerca di riconoscerlo e di darvi informazioni su questo alimento. Ebbene, in questo video si vede il fondatore che prende una manciata di mandorle e gli chiede quante proteine ci sono in queste mandorle. La risposta è 15 grammi. Ebbene, qualcuno si è accorto che 15 grammi di proteine corrispondono a circa 60 mandorle, che non sono quelle, la decina che erano nella mano, sono molte di più. E quindi c'è un altro errorino, ecco, di questa demo. Ora il video è stato corretto, gli hanno messo le informazioni giuste, e hanno detto di non preoccuparsi, perché questa roba qua, questo video, era stato registrato con una versione preliminare del PIN e del software, che adesso invece è stata corretta, non è più così. E quindi, insomma, tranquilli, non è come sembra. Ecco, è un piccolo errorino, ma è tutto a posto. Velocemente vi segnalo che Amazon sta lanciando un nuovo sistema operativo basato su Linux, che si chiama VegaOS, e lo distribuirà nei propri dispositivi, nei propri device, quindi in Echo Show, per esempio, Fire TV, ecco. Quindi sganciandosi da Android. Quindi VegaOS è basato su Linux, si sa perché qualcuno ha scoperto, ha trovato degli aggiornamenti sui propri device, e ha scoperto che questa è la versione 1.1 di questo OS, e peraltro che alcune app non funzionano. Per esempio Netflix non funziona con questa nuova versione del sistema operativo, perché appunto è un'app basata su Android, e non funziona con Linux. Amazon ha, in questi giorni, annunciato, insomma, dichiarato, che le proprie app sono su ecosistema, sono realizzate con React Native. Per chi non sapesse cos'è React Native, è una sorta di middleware tra le API native e il codice JavaScript, quindi vi permette di scrivere applicazioni in JavaScript, e poi lui traduce queste chiamate, queste richieste, in API native. Quindi voi fondamentalmente potete usare una unica codebase per le app web e per le app di vari altri device. Sono supportati naturalmente in mobile, quindi Android e iOS, ma anche Windows. E c'è un supporto per Linux, a cui Amazon sta appunto spingendo, e chiede ai propri produttori, quindi di app, di terze parti, di usare React Native per produrre delle app che funzionino anche su Vega OS. Quindi questo è un po' il futuro sperato da Amazon, sganciarsi da Android e andare verso Linux. Potrebbe essere considerato Linux su desktop anche questo? Forse no, però insomma, è sempre Linux. Qui parlo invece di una piccola cosa che riguarda la security. Google ha prodotto delle nuove chiavette di sicurezza che si chiamano Titan, e potete acquistarle sullo store appunto di Google. Sono in due versioni, una USB-C e una USB-A. La USB-C costa 35 dollari, la A costa 30, e queste sono chiavette Fido, insomma, Fido 2, che sono però integrate con le passkeys. Quindi potete salvare le vostre passkeys, cioè hanno una memoria interna, salvate le passkeys su queste chiavette e poi vi autenticate su tutti i siti che supportano passkeys con queste chiavette. Sono peraltro NFC, quindi potete scambiarle, scambiare le passkeys velocemente con gli smartphone, insomma, tra gli smartphone e le chiavette. Insomma, è un modo per far vedere anche quanto la industria, insomma, la gente stia credendo nelle passkeys e stia investendo. Queste sono, insomma, le chiavette di Google ed è, insomma, un segnale da dare. Altro segnale da dare, c'è un focus importante sulla security del cloud, ultimamente. Non ultimamente, è un po' che se ne parla, no? Soprattutto a livello legislativo sono usciti nuove indicazioni, nuovi framework legislativi che vanno un po' a cercare di incrementare la security della supply chain e di tutto quello che succede in cloud, con i software deployati in cloud. Benissimo. In questo contesto, insomma, vado a inserire l'annuncio della nuova release di Cubescape, nuova major release di Cubescape, la 3.0. Questo annuncio lo trovate sul blog di CNCF, Cloud Native Computer Foundation, perché Cubescape è un progetto che è stato donato alla CNCF. E che cos'è Cubescape? È una serie di tool che consentono di fare analisi dello stato della security del proprio cluster. Quindi voi deployate attraverso un M-chart questo software, Cubescape, sul vostro cluster e avete un'interfaccia che vi permette di dare a vedere, insomma, quali sono le possibili vulnerabilità di sicurezza all'interno del cluster, all'interno dei vostri container e inoltre un'altra serie di security scan che avete. Per esempio, banalmente, potete fargli produrre l'S-BOM, quindi tutta la lista delle vostre dipendenze con le varie vulnerabilità nel cluster. C'è anche la possibilità di usare l'interfaccia command line, quindi se non volete deployare un workload sul cluster, potete utilizzare un'interfaccia da command line con il tool per andare a fare analisi statica dalla console. Quindi avete l'interfaccia da console, per chi sta guardando, ecco, questa qua, che vi dà un po' sommario della security, questo è l'S-BOM, e poi avete invece anche l'interfaccia grafica se volete deployarlo, che vi dà, adesso questa è in versione preview, quindi sarà anche un po' migliorata, insomma, vi dà un po' di dati sullo stato di sicurezza del vostro cluster, che è importante, insomma, credo che valga la pena andarselo a un po' a vedere, se non lo conoscete già, comunque, se invece lo conoscevate, sappiate che è una nuova versione con delle nuove cosette, è la versione 3.0 di Kubescape. Nuova versione anche per un tool, per un software, molto grande, molto importante nel panorama open source, ed è Blender, lo conoscerete tutti, Blender è un software che consente di creare animazione, oggetti 3D, usato anche nel cinema, insomma, è un software molto importante, è uno dei progetti open source credo più grandi, importanti, che conosciamo, ebbene, è uscita la versione 4.0, ora, io non conosco quasi niente, non uso Blender, non so bene, non saprei bene come descriverlo, raccontarvelo, però, insomma, vi faceva piacere riportare questa cosa, insomma, Blender è un progetto vivo e attivo, e la Blender Foundation ha appunto appena annunciato la versione 4.0, tra l'altro pare una bella major, insomma, con un sacco di novità interessanti, se però vi interessa, andare a vedere un po' che cosa contiene questa release, su Itzfoss, ho trovato questo articolo, lo trovate, credo, un po' dappertutto, ma su Itzfoss, insomma, Blender 4.0, e vedrà tutta la lista di migliorie che apporta appunto questa nuova release. Non ve la racconto nel dettaglio, ma vi do adesso una serie di cose un pochino piccoline, una carrellatina finale, ci aggiungo altre due cosette, una è che uno studio ha appena, diciamo, ha appena scoperto, ha appena riportato, uno studio che trovate su Science, sulla rivista Science, rivista scientifica, naturalmente, che parla di questo modello di DeepMind, l'azienda di Google, quindi si parla di intelligenza artificiale, ecco, questo modello di AI prodotto da DeepMind che si chiama GraphCast, che fa previsioni meteorologiche, quindi addestrato su una serie di dati di questi ultimi anni di previsioni meteo, ecco, fa delle previsioni e questo studio ha scoperto che queste previsioni sono più accurate di quelle ottenute con le previsioni convenzionali, tradizionali, insomma, della meteorologia, in molti casi, addirittura, hanno provato a confrontare 1380 metriche e nel 90% di questi casi la previsione delle AI è risultata migliore e più accurata di quella ottenuta con metodi tradizionali. Ora, poi, i ricercatori hanno detto che questo dato è ok, è fantastico, ma su molti scenari molto importanti ancora l'AI non è in grado di superare la meteorologia tradizionale, quindi questo lo si vede un po' come un'assistenza, non ha un aiuto da mettere in parallelo con il calcolo tradizionale, che però è molto interessante perché è agli inizi e quindi sta evolvendo, quindi in futuro potrebbe essere ancora più impattante, soprattutto perché il calcolo per le previsioni meteo tradizionali richiede molta potenza, molta energia, richiede dei super computer, tra l'altro il centro con la maggiore potenza di calcolo si trova in Europa, ebbene, questo invece basato sull'AI richiede molta meno energia, tipo mille volte in meno, e quindi capite quanto è importante andare a spostare quanto più possibile l'effort su questi modelli per ridurre anche l'impatto ambientale, insomma energetico, energivoro di queste operazioni, quindi ve la butto lì, mi pareva una cosa interessante da raccontare, chiudo davvero, l'ultimissima cosa, visto che abbiamo anche accennato WebAssembly in puntata, se vi interessa WebAssembly e dovrebbe interessarvi, c'è un sito molto carino si chiama wasmbyexample quindi wasmbyexample tutto attaccato punto dev e questo sito contiene una serie di esempi esattamente che poi potete riprodurre, ci sono gli snippet di codice da riprodurre in Rust ma anche in TinyGo e altri linguaggi anche in bytecode sul vostro insomma computer per andare a vedere un po' come funziona WebAssembly alcune delle cose base di WebAssembly potete scegliere delle cose che vi interessano per esempio qua sono sulla gestione della memoria lineare di WebAssembly che è una sua particolarità ebbene vi da gli esempi gli snippet in Rust e poi i comandi da dare da linea di comando appunto per compilare e poi vedere l'output di questa compilazione insomma se volete un po' iniziare a vedere come funziona WebAssembly grazie a degli esempi concreti ecco wasmbyexample.dev ve lo consiglio secondo me se non siete ancora se non avete iniziato a guardare questo mondo è il momento di farlo ed è il momento anche di chiudere questa puntata finalmente è stata molto lunga fatemi sapere se questa modalità è apprezzabile ed è fruibile insomma perché non lo so un po' tante robe tutte mischiate non lo so se ha senso se non ha senso non lo faccio più però ecco questo è anche abbastanza faticoso se siete a Pescara domani dopo domani anzi sabato e domenica io vado domani ma insomma mi sto confondendo sabato e domenica ecco c'è la DevFest Pescara tra l'altro non so ancora quanti biglietti rimangono perché ne hanno staccati moltissimi ma insomma provate andate a vedere sul sito DevFest Pescara meraviglioso evento ci trovate me e un sacco di altri speaker italiani e internazionali io sarò sabato mattina andate sul programma a vedere la line up e tutti i temi che si tratteranno è un evento meraviglioso che insomma se potete insomma consiglio di partecipare e andarvelo a vedere se ci siete ci vediamo lì insomma mi farà piacere ho davvero esaurito le energie e il tempo spero di non aver esaurito le vostre insomma ci vediamo la prossima settimana ciao ciao